Ci sono messaggi che in un istante ti fanno sentire che qualcuno è sempre con te. Anche Unipolsai è sempre con te. E mentre tutti lottiamo contro il virus, ha deciso di regalare ai suoi 10 milioni di clienti una copertura sanitaria Unisalute, per aiutarti in modo concreto nelle possibili conseguenze del Covid-19, regalarti serenità e, come ogni giorno, prendersi cura di te. Unipolsai, sempre un passo avanti.